Good morning, si qui sono praticamente 9 e mezza, questo è l'unico report più presto che faccio in assoluto tutta la mia storia è di quasi un anno, il 17 giugno farò un anno dal weather report si poi in quel giorno forse farò comunque un video speciale vedremo comunque anche in questo caso come dico, certo non è la mattina proprio prestissimo la mattinata comunque un po' inoltrata ma comunque ancora mattina mister, master, maestro o semplicemente ooooh semplicemente David Lynch, it's May 9 2022, and it's Monday here in Naples cloudy morning, and with l'invento abbastanza un po' leggero, anche un po' forte insomma non proprio leggerissimo 69 and 8 Fahrenheit at around 21 Celsius this means that it's that they really, 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 really soft like in this days, in this period si, anche se con questa atmosfera sembra che faccia leggermente più freddo, slightly cold as riguarda le video toads if I'll do it, as always, I'll do it separate from this, so if you are interested eye, eye is open in the case anyway, as you and you all just see from the window it seems that it's afternoon temperature, io credo, on the same level, we maintain on the same level costrebbe anche scendere o salire, ovviamente we aren't wizards on this point, but really important thing with this atmosphere, is that absolutely, we aren't going to be enjoying those beautiful blue skies, golden sunshine e una tendenza avanti a 3-3 giorni questa non so quando finirà, spero presto e le cose, ci sono solo degli spirali di sole, niente di più comunque auguriamoci che le cose vanno nettamente meglio da domani in poi per cui say that is, so from the mythical window with the orange red, blue, green water curtain, it's green roller shooter behind me on the top, not visible in fact ring shot and finally from the mythical keyboard amari gx 640 ipg 625 eva great day im all the people follow the channel in the reports un saluto davvero a tutti and also i hope you will have a great breakfast io la farò tra poco il mio stomaco è brutto l'ansia se lo sentite e mi consolerò soprattutto perchè il tempo è brutto così come spero possiate consolarvi anche voi con la vostra bella colazione se il tempo e se sarà brutto come è qui anche alle vostre parti i'll see you in video tools if i'll do it or tomorrow